Eccoci giunti al settimo itinerario turistico di 14 alla scoperta del centro storico artistico di Firenze. Oggi vi conduco alla scoperta del complesso domenicano di Santa Maria Novella. La Basilica di Santa Maria Novella non è generalmente tra le top 10 dei luoghi che i turisti che arrivano a Firenze visitano e questo è un vero peccato. Architettonicamente è una delle chiese più importanti in stile gotico in Toscana. L'esterno è opera di fra Jacopo Talenti e Leon Battista Alberti. L'interno racchiude invece i capolavori straordinari tra cui la Trinità di Masaccio, gli affreschi del Ghirlandaio nella Cappella Tornabuoni e il Crucifisso di Giotto. Ma cominciamo per gradi. Il convento fu costruito tra il 1279 e il 1357 dai frati domenicani vicino un'antica chiesa del VII secolo circondata dai terreni coltivati fuori le mura di Firenze. La facciata per la parte inferiore in marmo in stile romanico si ritiene opera dell'architetto domenicano fra Jacopo Talenti, mentre la parte superiore completata solo 100 anni più tardi nel 1470 è creazione di Leon Battista Alberti finanziata da Giovanni Lucellai come si legge in facciata sotto timpano col sole raggiato simbolo dei domenicani. L'interno della basilica appare spazioso e per essa fin da subito furono commissionate molte opere d'arte, anche se alcune di esse adesso sono conservate in altri luoghi, come avviene per la Madonna in trono con bambino di Duccio di Buoninsegna, oggi conservata agli uffizi. La chiesa inizialmente era suddivisa in due parti, la parte superiore divisa da un muro era riservata ai frati, mentre la parte inferiore era aperta ai fedeli. Il muro fu demolito da Vasari nel XVI secolo, ma si può ancora riconoscere la separazione tra le due parti all'altezza del crocifisso di Giotto. Tale ammodernamento per mano di Vasari avvenne anche per altre chiese fiorentine, come per esempio Santa Croce. Originariamente la basilica era dotata anche di affreschi che furono però coperti nel XVI secolo, sempre da Vasari, durante questi importanti lavori commissionati da Cosimo dei Medici. Se vi posizionate in un punto esatto, vedrete in contemporanea tre capolavori mozzafiato dei tre artisti, Giotto, Brunelleschi e Masaccio. Il crocifisso di Giotto si trova al centro della navata centrale e campeggia ad oltre 4 metri di altezza, creando il vuoto tutto intorno per ricordare la solitudine e l'abbandono vissuto da Cristo. È un'opera giovanile di Giotto, datata intorno al 1290, che mostra già l'ombreggiatura del corpo di Cristo e la ricerca di un sempre maggiore naturalismo. Un altro crocifisso da ammirare si trova nella cappella Gondi, disegnata da Giuliano da Sangallo, alla sinistra dell'altare maggiore. È il maestoso crocifisso ligno di Brunelleschi, completato come competizione con l'amico Donatello, con fattezze non da contadino, per dirla come Vasari. Il capolavoro di Brunelleschi presenta allo stesso tempo caratteri umani e divini. Guardando invece sulla navata sinistra si può ammirare la Trinità di Masaccio, uno dei primi capolavori del Rinascimento, che vede l'impiego della prospettiva, ambientando la scena sacra in una cappella, tanto che Vasari dirà che pare che quel muro sia bucato, dove i committenti, inginocchiati, sono dipinti per la prima volta a grandezza naturale, con le stesse dimensioni delle figure sacre. Inoltre Maria è ritratta come una madre anziana. Non si può non ammirare gli affreschi dell'abside della Cappella Maggiù, ritorna Buoni, intitolata sia la Vergine Maria, con affreschi a lei legate, sulla sinistra, che a San Giovanni Battista, con scene sulla destra. Gli affreschi sono dovuti a Domenico Ghirlandaio, alla sua bottega, nella quale fu apprendista il giovane Michelangelo. Si narra che i tre giovani dipinti, dando le spalle al visitatore nella scena in basso di Maria, che fa visita a Santa Elisabetta, sono attribuiti da avvasare al giovane Michelangelo. Ghirlandaio intese raffigurare in queste scene personaggi illustri della Firenze dell'epoca. Accanto troviamo la Cappella Strozzi, alla destra dell'altare maggiore, dedicata a San Giovanni Evangelista e scene della sua vita, opere ad affresco di Filippino Lippi. Ha iniziato a lavorare alla Cappella nel 1487, ma poi gli Strozzi furono esiliati da Firenze, proprio dalla famiglia Medici, e la Cappella fu finita solamente nel 1502, quando gli Strozzi tornarono in città. Questa Cappella è tra le ultime opere dell'Ippi, che muore nel 1504, quindi poco dopo il completamento. Interessante da visitare anche la Cappella Strozzi di Mantua, nel transetto di sinistra, dedicata a San Tommaso d'Aquino e decorata con affreschi di Andrea Dicione, che raffigurano paradiso e inferno. Anche Dante è rappresentato nel giudizio universale dietro l'altare. Il politico è di Andrea Dicione, detto l'Orcagna, il quale aveva affrescato originariamente la Cappella Maggiore, rifatta in seguito dal ghirlandaio. Possiamo ammirare le sinope degli affreschi dell'Orcagna nel Museo di Santa Maria Novella. Il pulpito invece si deve al Bugiano, il figlio adottivo del Brunelleschi. È composto da quattro pannelli, di cui il primo, con l'annunciazione, si illumina in modo particolare con un raggio di luce che filtra attraverso la finestra. Il 25 marzo, il giorno dell'annunciazione, è considerato per secoli il capodanno del calendario fiorentino. A proposito, in facciata trovate anche un'armilla equinoziale. È uno strumento importantissimo per capire quando avvengono gli equinozi. Accanto alla chiesa potete visitare anche il museo, nei locali del convento domenicano, partendo dal chiostro verde, con gli affreschi di Paolo Uccello, con scene dell'Antico Testamento, adesso posti al riparo all'interno del museo. Il cappellone degli spagnoli o anche la sala capitolare, summa di tutto il pensiero domenicano, cosiddetto perché usato dalla corte di Eleonora di Toledo, moglie di Cosimo I e dal suo seguito. La cappella è magnificamente decorata dagli affreschi di Andrea di Buonaiuto, con la passione di Cristo, la morte, la resurrezione, sulla parete di fronte all'ingresso. Sulla destra invece troviamo il grandioso affresco del trionfo di Sant'Ommaso d'Aquino e quindi della sua dottrina. I Domenicani sono i cani di Dio, inviati a cercare le pecore scappate e smarrite dall'ovile, quindi dalla chiesa, e per questo sbranano i lupi, che sono metafora degli eretici. Sulla sinistra troviamo un affresco col trionfo della dottrina cattolica e sotto l'allegoria delle scienze sacre e delle scienze profane, mentre sulla parete d'ingresso si trovano gli affreschi raffiguranti scene della vita di San Pietro Martire. Nel refettorio sono conservati i preziosi oggetti liturgici della sacristia e alcune delle sinope degli affreschi dell'Orcania, recuperate dalla cappella Tornabuoni. Straordinario anche il refettorio, dove fino a pochi anni fa facevano menza i carabinieri della scuola dei marescialli e brigadieri. Il chiostro grande è il chiostro più grande di tutta Firenze, un'oasi di pace considerando che a pochi metri troviamo la frequentatissima stazione di Santa Maria Novella. Vi consiglio di continuare la visita all'antica farmacia, la più antica per attività d'Europa, poi è ancora attiva dal 1612, continuando a produrre celebi prodotti, tratti da antiche ricette dei frati domenicani, come per esempio anche il buonissimo Alkelmes, che serve anche per fare dei dolci come la zuppa inglese. All'interno della farmacia è possibile visitare anche la piccola cappella degli acciaiuoli, che presenta una crocifissione con un leone, guarda caso simbolo della famiglia, e una strepitosa tavola rotonda nell'ultima scena, dove Giuda ha l'aureola nera. Vi aspetto per l'ottavo itinerario, vi invito a seguire in descrizione tutti i video collegati al complesso domenicano, che arricchiranno la vostra visita. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel like, un commento, e se vi va iscrivetevi al mio canale, attivando anche la campanellina, per non perdere tutto ciò che pubblicherò. Grazie a tutti.